Secondo appuntamento del campionato italiano Rally Sparco, Rally di Alba dal Ciocco, prima gara del campionato dove avete visto quello che abbiamo fatto con i nostri video, siete stati tanti a guardare quel video e tanti a commentare positivamente, quindi grazie, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché questo è il primo video del Rally di Alba ma ne seguiranno altri perché saremo presenti esattamente come è successo al Rally del Ciocco, format più o meno simile a quello del Ciocco. Le ostilità inizieranno il giovedì sera e il venerdì mattina con le verifiche tecniche e soprattutto con lo Shakedown che sarà dalle 8 all'1, poi alle 15.30 la partenza dalla città di Alba e poi la prova speciale, la Power Stage, quella che assegna i punti extra ai primi classificati della prova speciale. Parco assistenza e riordino serale alle 18.05, dopodiché visto che ci troviamo nel cuore delle Langhe, in un luogo meraviglioso del Piemonte, ci sarà da mangiare bene ma soprattutto da bere dell'ottimo ottimo vino. Il grosso della gara sabato 15 aprile, due le prove speciali del primo giro, la San Grato e la prova di Iliano che sono grossomodo quelle più lunghe da 14 chilometri erotti. Il secondo giro di prove speciali, San Grato, Roddino e Iliano, quindi il cuore della giornata di gara sarà questo, a cavallo proprio del momento del pranzo e poi gran finale sulle prove di Roddino e Iliano. Dopodiché arrivo alle 19.38 ad Alba per una gara che si preannuncia assolutamente interessante e per i piloti iscritti e per le prove speciali particolari di questa gara. Per approfondire i vari argomenti sul rally di Alba, Giacomo Cugnial è qua con me, ciao Giacomo. Ciao Damiano, buonasera, che bello essere di nuovo pronti per un'altra gara di italiano. Rally di Alba, cosa ti fa venire in mente Alba? Se tu mi dici Alba così, se io non sapessi cosa sono i rally, io ti direi il tartufo, ti direi buon mangiare, buon bere e come l'hanno definito anche loro, buon vivere in generale. Il rally di Alba è uno di quelle occasioni in cui ti muovi per il rally, il rally è anche viaggio, percorsi enogastronomici che non per forza magari saranno il percorso della gara stessa, toccati dalla gara, ma siamo in una zona che vai da Monforte d'Alba a Barbaresco a Santo Stefano Belbo a Castellione d'Aste, insomma il sud di Asti, che è tutto votato al turismo enogastronomico, che a noi piace tanto, ma soprattutto che è una delle forme per cui i rally diventano importanti, soprattutto per noi che abbiamo la fortuna di stare in Italia, che come ti muovi trovi una particolarità turistica. Giacomo, tu dicevi giustamente che il turismo enogastronomico potrebbe non essere lo stesso del percorso di gara, ma allora vediamo subito il percorso di gara. Le prove speciali sono particolari perché sono un po' diverse da quello che troviamo nel resto d'Italia, nel senso che la velocità media è leggermente più elevata, i passaggi sono un po' più veloci, le strade sono un po' più veloci e soprattutto sono in molti tratti sporche, un po' strette, un po' rotte, quindi un asfalto un po' particolare rispetto allo standard italiano. La prova speciale di San Grato, secondo me, secondo noi, è quella che darà forse più filo da torcere agli equipaggi perché contiene una parte larga e veloce, una parte stretta, velocissima, bellissima, con anche un paio di inversioni, un paio di tornanti molto belli, tutti nel sottobosco, con un asfalto un po' accidentato, veramente da pelo, dove chi tiene giù farà la differenza e poi la strada si ributta in un altro tratto, quasi in piano, un po' più largo, con delle curve abbastanza che girano, però comunque su una strada larga, con un asfalto molto bello, fino alla famosa inversione di Castino, che è quella da cui tra l'altro parte lo shakedown, con l'ultimo tratto di discesa che tutti abbiamo visto in diretta tv l'anno scorso e rivedremo in diretta tv anche quest'anno, abbastanza standard, nel senso che ha un asfalto abbastanza buono, non è eccessivamente stretta, leggermente sporca e quindi potrebbe riservare qualche sorpresa finale. La prova speciale di Roddino, ex prova in altre edizioni di Borine, con la famosa inversione di Sinio, una delle inversioni più famose del rally di Alba e forse d'Italia, negli anni in cui il trofeo rally asfalto collezionava VRC a nastro, era una delle inversioni più belle che potesse offrire questa gara. Il Liano, quella che sarà la prova speciale finale della gara e quindi quella che potrebbe decidere anche le sorti sportive di questa edizione del rally di Alba, divisa sostanzialmente in quattro parti. Inizia con una strada abbastanza larga e fluida e poi si inerpica su una stradina molto stretta, un po' accidentata, per poi ributtarsi su un altro stradone piuttosto largo sulla cima di una collina, quindi anche ad una certa quota e poi per infilarsi dopo un'ultima inversione su una stradina un po' più accidentata. È una bella rappresentazione delle strade che offre la zona di Alba e i piloti del campionato italiano forse non tutti hanno così dimestichezza con questo tipo di strade, salvo quelli che ovviamente lotteranno per la vittoria, piloti che lotteranno per la vittoria. Giacomo, tra i tanti motivi di interesse di questo rally di Alba ci sono ovviamente i piloti che si giocano la gara. Qui sarà dura secondo me perché si amplia il parco partenti visto al ciocco, sia nel CR sia per quelli che partecipano al TER. Comunque io per la vittoria assoluta vedo favoritissimi gli italiani, in particolare Andrea Crognola e Pietro Metto. Vedo molto bene anche Fabio Andolfi perché è sempre stato competitivo anche negli ultimi anni. Dopo i primi due diciamo che secondo me saranno loro due, come è stato al ciocco, vedo De Tommaso invogliatissimo a riscattarsi dal ciocco perché al ciocco l'abbiamo visto molto incazzato perché non è riuscito a portare a casa quello che voleva. Il suo potenziale era molto più grande quindi si avrà sicuramente voglia di riscatto. E poi iniziano una serie di nomi. Di sicuro Gian Domenico Basso ritorna sulla squadra Fabia, ritorna nel campionato italiano. Sarà sicuramente nella lotta. Non so se riesca a stare lì con Crognola Andolfi, visto che comunque magari quest'anno lui patirà il fatto di partire così dalla seconda gara. Oltre a Giando ci sarà Aiden Baddon, secondo me lì appena a ridosso dei primi due, con Bottarelli, Bostian, Abeli, Lefebvre, ma anche Osberg. Un Osberg l'anno scorso ha fatto delle comparsate in Italia, non mi ricordo, Casentino, Sanremo e Como. E non ha fatto delle gran belle figure, ha avuto dei problemi tecnici, ma anche a livello di prestazione proprio tecnica non è riuscito a fare insomma quello che dovrebbe fare lui che è campione del mondo WRC2. Il gruppetto dei 4-6-7 inclusi, quelli del TER, piloti internazionali, sarà una lotta molto grossa per l'assoluta. Va detto che un campionato italiano dove possono giocarsi la vittoria in 5-6 piloti è un campionato che non si vedeva da diversi anni e fa veramente tanto 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 piacere. Questa è la prima gara forse della Coppa WRC+. Una figata! Finalmente inizia questo anche un po' discusso campionato che può includere le WRC+. Sarà il buon Alessandro Gino con la sua meravigliosa i20 WRC a darsi battaglia con un equipaggio molto strano, Pedersoli e Andrea Adamo da navigatore. Sarà interessante vedere secondo me il fatto che Pedersoli ha già guidato una Plus ma ha guidato la Hyundai. Alessandro Gino le testa, le conosce le Plus e quindi secondo me anche a livello di tempi verranno fuori dei tempi interessanti. Sarà interessante vedere tra i due nel duello chi la spunterà. Io immagino che Luca Pedersoli voglia vincere anche questo duello, però avere un navigatore che non è proprio il suo essere di fianco a dettare le note ma più a mettere a posto la dinamica di guida come Andrea Adamo. Non lo so se riuscirà insomma avendo un navigatore d'eccezione a stare davanti a comunque Alessandro Gino che nelle strade di casa con una macchina che magari riesce a testare bene, a conoscere bene, può dire la sua contro un pilota come Pedersoli. Rispetto a quello che hai detto interessante il fatto che Andrea Adamo forse per la prima volta sale su una C3 VRC Plus e andrà a scontrarsi contro le sue vecchie conoscenze le Hyundai. Seguiranno il roadbook della Coppa Rally di zona quindi sostanzialmente si fermeranno dopo la prova speciale numero 6. Altri spunti interessanti rispetto al Rally di Alba, intanto ci sono i nuovi iscritti al Ciar tra i quali spiccano Rachele Somaschini che va a partecipare a questa gara di campionato. Tra l'altro in classe femminile con lei ci sarà Patrizia Sciascia che va molto forte quindi sarà molto bello vedere questa sfida tra loro due. Poi ci sarà Angelo Lombardo, Maurizio Mauri che si sono iscritti al Ciar. Guardavamo prima l'elenco iscritti alla voce due ruote motrici, è una roba fotonica. Due ruote motrici rispecchia la quantità della lotta che c'è nell'assoluta perché vedremo Pisani confermatissimo dopo il ciocco, Cambiaghi, Santero che si conferma con la Clio, vediamo se riesce a prenderla in mano sulle strade di casa, Farina che l'avevamo visto l'anno scorso molto forte, c'è l'incognita di questo Cédric Cardi francese corso di cui tutti parlano bene, poi ci sarà il neo entrato e neo iscritto Gabriel Di Pietro che abbiamo visto personalmente e fisicamente noi al Camuni andare molto forte e vincere una classe molto agguerrita e numerosissima. E anche Roberto D'Aprà che sappiamo avere un programma internazionale e sarà molto interessante vedere lui che sta facendo ottimi risultati all'estero, sta facendo esperienze, sta affinando la sua velocità in una gara italiana al confronto con i migliori italiani. Un'altra incognita saranno i tre giapponesi della Toyota Driver Academy, diciamo la cantera della Toyota che giustamente prende dei piloti nazionali giapponesi e li manda in giro per il mondo a imparare come si fa a guidare, li mandano in Italia per imparare a guidare sull'asfalto, i loro cognomi li provo a pronunciare Kogure, Otake e Yamamoto, sarà interessante vederli appunto come si posizioneranno per loro che saranno comunque chilometri di esperienza, però sarà interessante vederli all'opera anche ad Alba. Altra incognita però qui torniamo nella categoria rally 2, ovvero l'assoluta, non credo si giocherà l'assoluta, però sarà interessante anche lui vederlo in gara, il finlandese Koronen che è secondo in campionato VRC3 quest'anno, qui in Italia anche lui per l'apprendistato sull'asfalto, in vista della Croazia che sarà la settimana successiva, un'operazione come spesso accade in collaborazione con la Vittorio Caneva Rally School che attraverso i suoi contatti con il rallismo soprattutto nordico-finlandese si fa spedire gli equipaggi che vogliono fare esperienza sulle strade asfaltate proprio in Italia. E per finire l'elenco iscritti, sì, adesso non ci addentriamo nell'analisi dei vari trofei monomarca, perché sennò non finiamo più, però in realtà i trofei li andiamo anche a seguire quando saremo là tra qualche giorno. In quel di Alba va segnalato però il fatto che sono due trofei, quello Yaris e quello Suzuki, due trofei veramente che godono di grande salute, perché attualmente iscritti ad Alba ci sono 15 Yaris e 14 Suzuki, quindi comunque delle belle classi numerose, e quindi è ancora vero che i trofei fanno scuola e sono ancora una spina dorsale del rallismo italiano. Sì, soprattutto io sono particolarmente contento di vedere il trofeo Toyota crescere, perché 15 vetture al via sarà anche un bello spettacolo e diventa anche sportivamente e tecnicamente un trofeo interessante, perché comunque 15 equipaggi e vincere una classifica così corposa diventa avere anche un ottimo livello in senso generale. Quanta voglia hai di lanciarti con quelle Yaris, Giacomo? Tantissima, ma questa lasciamola per i commenti post-gara, no vabbè a parte gli scherzi, tantissima. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, qui sotto prima del box in descrizione trovate il tastino iscriviti, cliccate lì e perché? Perché per il rally di Alba, così come per tutte le gare del campionato italiano, realizzeremo una serie di video dove andiamo a raccontare la nostra esperienza, le nostre scorribande tra le varie prove speciali, dove vi facciamo vedere anche un po' di retroscena del realismo italiano. Ci vediamo quindi ad Alba, saremo in giro con un mezzo ignorantissimo, quindi se ci vedete sarà marchiato Service Park, quindi se ci vedete ci suonate il claxon, venite lì, ci salutate. Ci vedremo io, te Giacomo, Pietro sarà anche lui lì con noi a fare le nostre cose. Quindi vi salutiamo, un caro saluto e ci vediamo nel prossimo video. E buon rally!